documento di magistero lettera aperta ai cristiani al mondo di buona volontà pace 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 nel nome del padre del figlio e dello spirito santo in questo momento di grande sofferenza e di grande angoscia che attanaglia tanti cuori popoli e nazioni sempre più divisi tra loro che fanno ricorso crescente all'uso delle armi desidero rivolgermi a tutti i cristiani e al mondo che ancora animato dalla buona volontà non si rassegna alla guerra al pensiero che l'uso della violenza sia l'unico mezzo per risolvere i conflitti che si sono accesi si stanno accendendo in diversi continenti del mondo la violenza non è da dio che ha comandato non uccidere gesù il figlio del dio vivente è venuto in questo mondo per far conoscere l'essenza incarnando nella sostanza dell'amore a dio e al prossimo tante sono le leve che oggi nel mondo si possono usare in alternativa alle armi per vincere chi opprime i popoli e le nazioni e quando vi è stata la volontà i governanti delle nazioni e i potenti a guida delle istituzioni mondiali hanno ben dato prova di saper usare queste leve quella finanziaria quella economica quella giuridica quella sociale e fin anche quella ambientale per fare questo però si deve avere il coraggio e la volontà di seguire strade alternative alle armi e alla violenza che rappresenta all'apparenza la strada più facile ma che in realtà è devastante per tutti tanti infatti dimenticano o fingono di dimenticare le conseguenze i danni diretti e indiretti provocati dalla guerra il cui esito è sempre imprevedibile anche se oggi visti gli armamenti nucleari a disposizione di tante nazioni non è difficile prevedere che le conseguenze sarebbero fatali per tutti il mondo rischia così di imboccare una strada senza ritorno i conflitti già accesi non tendono a sopirsi ma al contrario si vanno protraendo altri se ne stanno via via accendendo con il rischio di coinvolgere un numero crescente di paesi confinanti ed appartenenti ad organizzazioni di nazioni che se coinvolte trascinerebbero nel conflitto come in un effetto domino un numero crescente di popoli e paesi in questo tragico contesto voglio rivolgere il mio accorato appello alla pace anzitutto ai cristiani e alle nazioni che si riconoscono in gesù cristo affinché si faccia ogni sforzo per cercare la pace senza fare ricorso alla guerra ma mettendo in campo ogni leva a disposizione dei governanti e dei responsabili delle istituzioni per spegnere sul nascere ogni violenza senza conformarsi al modus operandi di popoli e nazioni che non si riconoscono in gesù e nel suo insegnamento che per i cristiani è intramontabile ed eterno altrimenti che differenza c'è tra chi ha conosciuto e riconosciuto il salvatore rispetto agli altri uniamoci in gesù nel suo magistero autentico per pregare e agire affinché i capi delle istituzioni mondiali si attivino con ogni mezzo per cercare la pace in cristo con cristo e per cristo come segno di distinzione di tutti i cristiani che non sono chiamati a fomentare l'odio tra chi già vive di odio e di violenza in questo mondo ma a guardare alla pace eterna e di conseguenza contribuire al suo raggiungimento già su questa terra nel nome del padre del figlio e dello spirito santo